Ora valuti il rischio radiazioni ottiche naturali. Ed il rischio chimico per la sicurezza. In più hai il rischio scariche atmosferiche aggiornato alla CEI EN 62.305 parte 2.2013. Ora è l'archivio attività esterno integrato con lavorazioni in ambienti confinati. E, bonifica ordini bellici. Ora hai un archivio di modelli. Disponi di un help normativo aggiornato alle ultime norme. Grazie.